I no e i sì, molto spesso, li esprimiamo con troppa leggerezza, senza renderci conto che sia i no che esprimiamo, che i sì che esprimiamo, hanno sempre delle conseguenze. A volte non abbiamo il coraggio di dire di no a qualcosa che non è importante per noi o che non vogliamo fare. A volte non abbiamo il coraggio di dire di sì per una situazione veramente importante per noi e magari non ci buttiamo in una situazione che potrebbe essere particolarmente emozionante o farci vivere a un livello di qualità di vita decisamente più alto. Come si fa a dire di no? Come si fa a dire di sì? Oggi, in questo video, ti insegnerò a capire perché abbiamo difficoltà a dire di no, perché abbiamo difficoltà a dire di sì e come fare per imparare a dire un no elegante oppure dire davvero sì e buttarci davvero nelle cose che sono importanti per noi. Questo è un video che fa parte della playlist benessere mentale e anche benessere emozionale che fanno parte di questo grande progetto che si chiama Wellness University. Rivoluzionerà il mondo di affrontare 5 aree del benessere. Benessere fisico, mentale, emozionale, relazionale e finanziario. Ma partiamo a bomba con questo concetto veramente veramente molto importante. Partiamo dal capire chi non riesce a dire di no. Arriva una proposta oppure una direttiva, ma non è importante per noi o noi non la vogliamo proprio fare. Magari diciamo sì perché non abbiamo il coraggio di dire di no e a quel punto lì facciamo due grandi errori. Uno, facciamo qualcosa che non vogliamo fare o che non è importante per noi o che non è in direzione di quello che stiamo per realizzare. Due, comunichiamo all'altra persona che può richiederci quella situazione anche altre volte. Nel momento in cui noi la facciamo, magari la facciamo perché non vogliamo dirgli di no, ma l'altro non capisce che non la stiamo facendo per lui o per lei e che fa? Ce lo richiede, ce lo richiede, ce lo richiede. Perché non dico di no se non lo voglio fare? Ci sono tante ragioni. La prima ragione è che magari ho paura di ferire l'altra persona. Oppure perché sono abituato, arrivo in una direttiva a dire di sì perché non ho il coraggio di dire di no. Oppure per una questione di ruoli sociali. Nel mio ruolo sociale devo dire necessariamente sì. Oppure perché ho la responsabilità di quella situazione e dico necessariamente sì. Purtroppo, spessissimo, non dico no per paura del giudizio delle altre persone. Cosa penserà di me quella persona, quell'altra persona o le persone, il gruppo di amici eccetera se io dico di no. È importante capire una cosa, che dire di no a una situazione che non è importante per noi o che ci allontana da quello che per noi è davvero importante, è un modo per dire di sì a se stessi. Dico di no a quella situazione, dico di sì a me stesso e a quello che è importante. E per assurdo, nel momento in cui dico di no a quella situazione, a quella persona, per una proposta che non è in linea, nella direzione che voglio andare, che cosa accade di straordinario? Che anche l'altra persona viene formata da quel no. È un bene anche per l'altra persona. Ma come si fa a dire di no elegantemente? Primo concetto fondamentale, segnatelo, veramente importantissimo. Dipende tutto dal significato che dai al tuo no. Se il no lo percepisci come il no alla persona, e allora è normale che tu hai paura di ferirlo o di ferirla. Ma se invece comunichi un no non alla persona, ma alla proposta che ti arriva dalla persona, il no è alla proposta. Il no è al momento in cui ti è arrivata quella proposta. Infatti uno dei modi migliori per dire di no in maniera elegante, io l'ho dovuto imparare in tanti anni perché io avevo molta paura di dire di no, avevo veramente paura di ferire gli altri da questo punto di vista. Infatti ho fatto un sacco di casini dove ho detto sì a situazioni che non erano in linea con quello che era importante per me. Dico di no? Lo posso fare in maniera elegante. Cosa bisogna fare? Errore numero uno, attenzione a dire di no e ti giustifichi. No perché poi io non posso, cosa c'è? Non ti giustificare. Non hai bisogno di giustificare il tuo no. Magari puoi dare la ragione del tuo no. Quindi dici, guarda no, non sono interessato a questa proposta, ti ringrazio per quello che mi hai chiesto, ma non sono interessato per questa ragione. Non è in linea con quello che voglio davvero. Oppure lo puoi dire anche in maniera ancora più elegante. Questo no, non è alla tua persona. Io ti ringrazio per la proposta che mi hai fatto, ma no, grazie non è in linea con quello che voglio davvero, non è in linea con quella direzione che ho preso. Impara a dire di no, è fondamentale per la tua vita. Una cosa importante, prima di spiegarti perché abbiamo difficoltà a dire di sì a delle cose che vogliamo fare, è che devi stabilire cosa vuoi davvero. Qual è la vision? In questa fase della mia vita, dove ho chiarito davvero cosa è importante per me e cosa voglio realizzare nella mia vita, quando mi arrivano le proposte, dire di no è diventato molto, molto più facile. Lo faccio in maniera elegante, a volte lo faccio in maniera divertente per smorzare i toni, ma dico molti più no rispetto a prima. Perché voglio realizzare qualcosa di veramente importante per me ed è importante anche tante altre persone intorno a me. Quindi bisogna stabilire qual è la vision, qual è lo scopo di quello che voglio realizzare. Più per te è chiara la vision, o il porto dove vuoi andare a traccare la tua barca, è più facile dire sì e no alle situazioni che ti avvivano. In uno dei corsi della Wellness University, si chiama Il destino nelle tue mani, io aiuterò tante persone a capire qual è il loro scopo della vita, quali sono le domande più importanti che si possono porre e qual è la vision che possono arrivare a creare. Ma in base ai loro valori, a come vogliono soddisfare i loro bisogni evolutivi, eccetera. Perché questa è una parte importante. Chiuso questa piccola parentesi, andiamo a capire come fare per dire di sì. Perché molte persone, di fronte a delle proposte della vita o delle opportunità, dicono di no per paura, o dico di no per ruolo sociale, o dicono di no semplicemente perché non sono abituati a un cambiamento. Invece imparare a dire sì è fondamentale per vivere la vita fino in fondo. Infatti spesso dico ad alcuni miei allievi, buttati, buttati, vivi fino in fondo. Dici sì quando è importante per te, ma dici sì alla vita veramente con tutto il sorriso, apriti alle nuove opportunità. E se poi andrà male? Non lo possiamo sapere. Le cose possono andare bene e male, puoi vivere esperienze piacevoli, straordinarie o anche dolorose. In ogni caso, se dici di no, ti precluderai la possibilità di vivere quell'esperienza tutta. Ti precluderai la possibilità di vivere veramente la tua vita. Quindi imparare a dire di sì è fondamentale. Spiego bene questo concetto anche quando parlo di zona di comfort intelligente. Ho fatto dei video su YouTube, basta che cerchi Mauro Pepe zona di comfort, lo spiego bene, ma anche nel corso che ho da poco finito di realizzare, che si chiama Autostima Incrollabile, come fare per allargare la propria zona di comfort in maniera intelligente. E quindi imparare a dire davvero di sì a delle opportunità che arrivano dalla vita. Ma per dire di sì a quelle opportunità, a volte dobbiamo chiederci qual è la mia vera opportunità in questa situazione. Questo video è abbastanza complesso, come avrai potuto capire, ma ho una sola esortazione per te. Impara a dire di no tutte le volte che non è in linea con quella che è la direzione che hai scelto nella tua vita. Impara a dire di sì alle opportunità che arrivano dalla tua vita e che ti faranno vivere delle esperienze ad alto impatto. Perché qualsiasi sarà l'esperienza che vivrai, avrai da un lato vissuto davvero, dall'altro imparato qualcosa di prezioso. Se hai qualche domanda, scrivmela nei commenti. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, condividilo con i tuoi amici e poi iscriviti al canale. A te basta fare solo clic. Per me è davvero molto importante e io ti ringrazio ogni volta che lo fai. Questo video finisce qui e ti saluto come al solito con il mio abbraccio affettuoso. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Grazie a tutti.